bella a tutti ragazzi qui c'è i tassi da South Park ragazzi siamo qua con tipo il millesimo episodio non è vero comunque abbiamo appena preso il coso tipo il vestito da frate o roba del genere dal baule dei twig che ci ha regalato la chiave dato che noi gli avevamo portato la metafetamina perché eravamo diventati Indiana Jones e niente ci becchiamo al video bello allora ragazzi eccoci qua siamo qua qua la twig intanto l'ho tipo è c'è molto più stile ho a sbloccare un pochettino il menù e sono riuscito a capire un po' meglio come funziona ci ho messo le due minuti però vabbè bastava un po' di impegno piccioni non è vero la cornacchia allora bisogna correre verso l'infine d'oltre no perchè allora ragazzi io non capisco allora devono fare una cosa cioè sicuramente ci sarà un tasto per accedere direttamente alla mappa però io non lo so quale io devo capire no io come faccio ad andare qua tipo qua proviamo un pochettino sembra tipo una musica eh sto bello mi ricorda Harry Potter già ve l'ho detto poi però mi sembra per il resto mi sembra un po' una musica apocalittica questo qua invece quel pezzettino mi ha ricordato Batman ah mi vende le cose molto buono aspetta aspetta posso tipo salire là oh eh quel coso però sparo beh overpower allora troppo casato che serve no ma io chi cazzo sono c'è ma c'è ma c'è un po' un altro stile raga popopo gansta e ho capito ho capito no cioè non c'ha senso vabbè teniamola aperta poi bene Indiana Jones questa volta questa è la o 8 paura lupet e il tizio oggetto richiesto chiare di posizione andiamo dalle chiavi o quella cosa lassù non si può saltare saltare ma quando mai o quello che cosa lassù per il giro testo rapide bello no beh perché ho fatto questa cosa andiamo di qua che capo whatafuck però io vorrei capire no ma ma io voglio dei soverpower io sono overpower bisogna starci molto attenti a come ci si allora ah giusto qua c'è la porta perché è una fattoria con la porta mi fa bene in mente già tipo non c'è un altro gioco mi era bene in mente però non me lo ricordo sinceramente ho sbagliato ahia il trono di spade che è troppo bello raga bene dove vado tipo qua chiave di finire se parlo con la mucca se faccio sta cosa sono sono troppo figo guarda guarda che stile che c'ho troppo troppo sono overpower oh 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 cazzo ma no aspettami tu mi stai dicendo che questa era no no se la dice hai sparito da qua io mi incazzo cioè io ho girato a cazzo e quindi no che merda ho voluto un'altra volta che io qua era la stessa cosa mi sa che non riuscivo a troppo no vaffanculo sinceramente vabbè andiamo a questo però raga allora dobbiamo utilizzare gli aggetti veloci perché io non riesco a capire come funzionano proviamo ad andare un attimo allora qua si scende comunque anche la grafica non è cioè in base al tipo di gioco che è South Park è piuttosto bella a mio parere fatta fatta bene comunque fa bei effetti musicali e tutto mi piace molto comunque il gioco spero che mi piaccia anche a voi ragazzi scrivendo ai commenti mi sta piacendo questa serie e a me personalmente si ah qua c'è aspetta vediamo no ma è chiusa ma vaffanculo d'altro lato c'era la signora là dentro oh ne tanto lagga non capisco se non è sta cosa che fanno cioè che come camminano per far laggare perché mi ha detto una cazzata no quindi ovvio a lei sono da random ma altogether oh lello ciao franco non cacci tua oh c'è non è normale io vado là lo saluto io saluto io oh fatti un cicchetto ah non mi ricordo più come si gioca cioè come si combatte tipo abilità ragazzi gli fanno gli fanno gli fanno gli fanno al culo molta vita c'ha oddio usa l'abilituccia no aspetta altrimenti martello di butters vai vai come troppo d'arma vaffanculo no oh dai guarda arco dello sfigato vai vai che cosa no hello usa un pure sushi cosa però me l'ha detto lui cioè insomma è tipo un tutor questa cosa oh sembra red balls red bull vabbè stiamo là cioè no vediamo un po' se moriamo oh oh vada vatti un cicchetto anche di nuovo l'arco comunque è troppo forte sinceramente eh mi piasa eh vabbè pure la gombo franco vada questo perde 10 io perdo 50 ecco ma poi non capisco come si pare raga cadde cadde allora let's go let's go no no perché qua ma che schifo roma di qua giorno per se non ha si è portato apocalittica l'ho detto un rituale satanico oh oh vai utilizziamoli alleluia dovevo andare là alla città portiamo qua viaggio oh la gallina ha fatto le uova fumo troppo lo so comu ok ok a fan che fango fumite ma più di me oh mi riuscola l'inizio a parche c'era la musichetta che me ne hanno già innamorato di questo gioco me lo ricordo ciao a l'alto parliamo parliamo lì va fa bene parlare con le persone perché poi ti chiedono l'amicizia no cioè tu vedi tu vedi ti sovrstrada no e che fai gli chiedi l'amicizia su facebook domani un postino parella la carta perché visto ora il 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 maria il maria il giallo lo calcate quasi letto per paura gli stessi quali tradizioni mandorando o bella che non mi pare sull'epid bimba non sei popolare compo vaffanculo c'è te non è meno ma è il muore 4 Ma ce l'avamo già stati qui Ma beh Qual è sto umore? Non c'è qui Vabbè lui ne va detto Va beh Let's go Oh Vai ruba tutto Forever and ever Allora Cos'è quel uomo lassù? Qua si può entrare, no? Il colore dei tuoi vestiti Che l'ho usata? Vabbè Capra afghana Oh vai vai Siamo molto più figli così Vabbè ragazzi andiamo Let's go Che fico Vediamo la mappa Che Due nove amici ragazzi Dieci amici! Più popolare di noi fa la bambina mannaggia a lei Io torno la mappa si sta col dito Allora Vabbè insommato C'è questa nuova cosetta Casa del signor Maso Va bene a parte questo casa di Kenny Dobbiamo tornare a casa di Kenny No perchè già siamo tornati prima Andiamo da Maso 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 Cosa sto dicendo? Non lo so Un po' di può saltare Bello No molto utile come cosa questa buona eh Some morning I wake up with the sun Ma il piano in seria Lui non parla Lui è Franco Qua c'è Peppe E' bella zio c'è Vai vai Oh Franco Ho Ma la sera Siamo prontata da te stare velocemment Comunque Pastrede L'exb cook No ma no Si Brrr Con la più vicina dove Ah Beh ah andiamo qua ragazzano E eh Itaglio E dimondolo un po Non so Grazie Un po Sdra Allora Qua c'è Franco Beh, là c'è lo stronzo che mi ha menato A te proprio non te voglio Non te guardo nemmeno Cioè Oh, che mi hai visto? Te supero proprio Ah, fanculo Te ne pareva Tu non mi guardi, eh Guarda che poi ti faccio male Ah, questa però non è casa di Kenny Casa di Kenny è l'altra Ci sta la missione Quale è la missione? Non lo so Non me la ricordo Quindi dobbiamo la casa di Kenny Oh, aspetta Alla dentro che cos'è? Ma fa culo Dico, sono così morto Sono pericoloso Mi ha scritto qualcosa Eh, vitality Questa è casa di Kenny, no? Poi se lo scrivessero Casa di Kenny No Kenny sarà tornato Ma Kenny è una ragazza Ah Penso un po' Se non mi ha detto Se non mi ha detto Cosa che non sa Oh, guarda l'altra volta Stai girando un po' Non capisco Guarda la missione di Kenny, raga Che non me lo commetti Perché non Ho detto Ho detto scrivete Non lo commetti Non mai Cioè Sì Vabbè Vabbè Bene Bene Capito tutto Che vedo la missione Che bisogna fare Allora andiamo a quell'altro Punto esclamativo E poi ci andiamo Allora Controlla spesso Tutte le tassi Dimentico di Zai Armino Bello No, 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 no Ma Il bossone nostro Caricamento Oh, bello Vampiro più l'orsetto De qua Let's go bitches Vai vai Una casetta rossa Non la ricordo Vabbè Questa Allora Tanto Yeah Se dimentichi di quelli Ciao Franco Grazie L'hai mai trattata Soprattutto le tassi Eh, eh Here If you ever need my help Use this I can't help I don't want to get a fissure Come back and find me If you want to call me again But give it a day I go to a lot of party Vamos Abbiamo l'amicizia 41 dollari Raga Oh Siamo miliardari Ehm Basta ragazzi Ora hai accesso Ora hai accesso A cosa Allora Qua dobbiamo Qua sono le missioni No Che faremo Ci proveremo almeno Allora ci proveremo La prossima volta ragazzi All together Forever and ever Yo yo Bella zio Minchia bro Quindi niente ragazzi Come sempre Spero che il video vi sia raggiunto Lasciate un like Un commento Passarei la descrizione Passarei la G2A Passarei la G2A Però me lo sapete ragazzi Almeno credo Sarete visto gli ultimi episodi Di Nel South Park L'ho sempre detto E passate a situare Un ottimo sito Con varie case Sconti Abbonamenti Su roba varia Giochi E tutte queste cose qua E niente Sperate che vi sia piaciuto Lasciate un like Un commento E noi ci vediamo al prossimo video Bella